Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono stra-felici-si-ma. Doppietta di Mauro Icardi, primo gol per Vesino, l'Inter batte la Roma ben 3-1. Sono stra-contenta di aver vinto questa partita, tra l'altro siamo andati a vincere a Roma, per cui in trasferta. Partita non difficile di più, perché comunque innanzitutto abbiamo giocato in trasferta a Roma ed è difficilissimo comunque andare a vincere a Roma. Secondo punto, abbiamo vinto con una delle squadre più forti d'Italia, perché comunque la Roma è una delle squadre più forti d'Italia, hanno uno squadrone, basta vedere quel mostro lì a centrocampo di nome Nainggolan, quindi io vi dico. Prima della partita avevo una paura assurda, perché 85% pensavo comunque di perderla. E invece l'Inter mi ha stupita, mi ha veramente stupita. Tra l'altro, devo dire innanzitutto che sono veramente felicissima, perché stiamo vedendo un Inter che ci sta dando grandi dimostrazioni, un Inter totalmente diversa da come l'abbiamo lasciata, un Inter combattiva, un Inter che non si arrende, un Inter che senza dubbio deve ancora lottare, deve ancora crescere, faticare, perché comunque si sta lavorando sulla squadra. Cioè, voglio dire, non è che siamo perfetti e tutto quanto. Si sta facendo però un bel lavoro, perché comunque i risultati poi in campo si vedono, i miglioramenti poi in campo comunque si vedono, si percepiscono, la squadra si vede che gioca meglio. Per cui devo dire che anche gli acquisti che abbiamo fatto, secondo me, sono anche, perché ne sto sentendo delle belle ancora, persone che sono deluse, col morale sotto i piedi per questo mercato dell'Inter, e invece secondo me non faremo poi tanto male. Ovviamente queste sono soltanto le prime due giornate, per cui non è che si può parlare di chissà cosa, non è che si può fare chissà quale pronostico, però devo dire che in queste prime due giornate l'Inter di dimostrazioni ce ne sta dando. E questa cosa mi rende veramente felice, no? Poi, per quanto riguarda i Cardi, viene sempre criticato questo qui, però per quanto riguarda questo inizio di campionato, sta sempre lasciando la sua firma, tra l'altro oggi era importantissimo farlo, l'ha fatto, per cui grandissimo Mauro Icardi. Sono felice per questa vittoria, un po' meno, perché non sono riuscita a vedere la partita come avrei voluto. Ho visto un pochino del primo tempo, un po' a sprazzi proprio, un pochino del secondo, poi ad un certo punto, perché ovviamente sono all'estero, per cui la partita sono costretta a guardarla sul cellulare, online, comunque in streaming. Allora, prima ho provato su YouTube, però su YouTube ovviamente alcuni canali si la trasmettono, ma dopo un po' si blocca tutto per violazioni di copyright. Poi ho provato su Facebook, la trasmetteva un tipo in un gruppo dell'Inter, però laggava, non si vedeva niente, i colori erano, cioè proprio, non si riusciva a vedere la partita. E quindi sono riuscita a guardarla un po', poi ho contattato anche Hermes, come stiamo andando, dimmi un po', anche mio padre, beh, come sta andando l'Inter, dimmi, perché qua non riesco proprio a vedere niente, per cui, no. Non è che riesco adesso a farvi un'analisi proprio perfetta di quella che è stata la partita, non mi permetto di farla, perché appunto la partita l'ho vista, purtroppo, così, a sprazzi. Devo dire però che nel primo tempo l'Inter poteva fare molto, molto meglio. Abbiamo visto un Inter, diciamo, benino, ecco, nel primo tempo benino, non proprio una pessima Inter, però un Inter che senz'altro doveva fare meglio, poi comunque l'ha fatto nel secondo tempo. Adesso non so benissimo le azioni che ha avuto la Roma in confronto a quelle che ha avuto l'Inter, o quelle dell'Inter in confronto a quelle della Roma, perché vi ripeto che purtroppo non ho potuto vedere la partita come avrei voluto. Per cui, se, fatemi comunque sapere voi. Però, devo dirvi, raga, che è una grande vittoria, l'Inter senza dubbio di dimostrazioni ce ne sta dando, grande Inter, grande inizio di campionato. Speriamo però, soprattutto, che le parole poi non si perdano nel vento, speriamo di continuare così alla grande, speriamo di lasciare un segno, perché adesso è troppo presto per pensare in grande, però, comunque, sono davvero tanto, tanto contenta. Fatemi sapere cosa ne pensate e io vi do appuntamento al prossimo video. Sempre Forza Inter!